Poi in una ripartenza, in una giocata, ha provato i gol e poi dopo non ha concesso più nulla, quindi è una squadra solida, compatta, unita, è un gruppo vero, gioca da squadra. Abbiamo visto le risultanze di De Santis, al fischio finale è andato lui da solo prima, sotto i tanti tifosi della squadra.